Una delle quattro auto incendiate questa notte ad Arezzo è ancora qui alle mie spalle nel terminal degli autobus in Viale Piero della Francesca. Le altre sono state invece già rimosse. È stata una notte di paura e di super lavoro per i vigili del fuoco di Arezzo che sono dovuti intervenire in più occasioni nel centro cittadino per spegnere le auto in fiamme. I primi episodi sono accaduti nella centralissima via Guido Monaco intorno alle 2.15 del mattino. Due le auto incendiate, una squadra è dovuta a correre per spegnere immediatamente l'incendio. Solo pochi minuti dopo un terzo episodio altre due auto in fiamme in Viale Piero della Francesca poco distante da via Guido Monaco. Anche in questo caso un'altra squadra dei vigili del fuoco ha raggiunto il posto per spegnere immediatamente le fiamme ed evitare danni più importanti. Gli episodi potrebbero nascondere la mano di un unico autore sull'origine degli incendi. sta indagando la polizia scientifica che è intervenuta sul posto. Proprio questa mattina gli inquirenti della questura di Arezzo si sono di nuovo portati sul posto per cercare appunto di acquisire ulteriori elementi per cercare di capire magari se ci siano delle telecamere a circuito chiuso, dei vari esercizi commerciali della zona che possano aver ripreso alcune scene di quanto accaduto questa notte ad Arezzo.